Pictura tacitum poema, miti e paesaggi dipinti nelle Domus di Cremona. È la mostra inaugurata ieri presso il Museo del Violino, in cui sono stati ricuciti migliaia di frammenti raccolti negli scavi di Piazza Marconi e Via Colletta. È possibile ammirare quanto rimasto dei dipinti delle Domus cremonesi di epoca imperiale, messi a confronto con i reperti provenienti da altre città come Roma, Napoli e Pompei, a cui i resti cremonesi non hanno nulla da invidiare. È una restituzione dei ritrovamenti fatti nel corso di questi anni nel sottosuolo cittadino, e in particolare sulle dipinti di Piazza Marconi, dove di fatto qua ci troviamo, e sono pezzi che sono stati poi messi a confronto con i grandi pezzi di musei nazionali, come Napoli, Pompei, Ostia Antica, che ci permettono davvero di vedere come la Cremona romana in realtà fosse molto vicina, anche in termini stilistici, a queste grandi città che tutti sappiamo, no, patria dell'archeologia. E quindi questo è per noi un motivo molto importante, anche perché è una restituzione ai cittadini anche dopo qualche disagio dovuto anche ai cantieri. Quindi, come dire, è una doppia occasione per valorizzare al meglio il patrimonio culturale della città. La mostra sta avendo parecchia risonanza, sia a livello nazionale che anche internazionale, perché diciamo che tutti gli studiosi che hanno visto questi reperti hanno dichiarato che non si aspettavano una cosa del genere all'interno della città di Cremona. Quindi è un'occasione davvero di studio e approfondimento, e che possa davvero aprire anche a ulteriori, chissà, passaggi di ulteriori studio, di ulteriori approfondimento. Grazie. Grazie.